Buongiorno a tutti, sono Luca Desina della divisione vendite videoproiettori di Casitalia e siamo qui a Roma per presentare la nostra gamma di videoproiettori, la nuova tecnologia laser led, andando in sostituzione ovviamente della precedente con la lampada mercurio. Una piccola overview della nostra gamma, abbiamo 6 prodotti slim, 8 prodotti standard, 6 prodotti 6 prodotti pro e 2 a corto raggio come ottica corta. La nostra unicità è chiaramente la sorgente luminosa laser led da 20.000 ore, per cui per 20.000 ore non c'è bisogno di dover sostituire la vecchia lampada mercurio, abbiamo ridotto i consumi elettrici del 50%, un'integrazione molto importante ai 5 livelli di eco mode dove riusciamo veramente ad avere un grosso risparmio energetico, oltre alla correzione automatica della luminosità. C'è una grossa interazione con dei software chiaramente compatibili e presenti sul mercato e abbiamo una connessione wifi per smartphone e tablet e la garanzia di 5 anni o 10.000 ore. Nel caso specifico oggi siamo qui per presentare il nostro nuovo prodotto che è venuto incontro alle esigenze professionali di una luminosità molto elevata, addirittura fino a 6.000 ansi lumen, con un software ovviamente per la correzione geometrica delle immagini. A questo proposito lascio la parola al mio collega del distributore Sinergie che vi spiegherà un attimino la soluzione stacchino. Buongiorno, sono Thomas Carosella di Sinergie, Sinergie è in Italia il distributore di Casio. Abbiamo creduto sin dall'inizio in questa tecnologia laser LED che è un qualcosa di veramente innovativo. Casio è stata la prima ad arrivarci al mondo, ha una gamma completa come abbiamo visto di videoproiettori. In questo momento siamo venuti incontro alle richieste come diceva il collega del mercato che ci chiedeva una luminosità più importante. Questi due proiettori M250 messi insieme danno una luminosità di 6.000 ansi lumen, con la differenza, come sappiamo, che non hanno le lampade, per cui la durata di 20.000 ore ci permette di posizionarli in situazioni in cui c'è la necessità di un'alta luminosità e il videoproiettore rimane lì con la sua vita di 20.000 ore. Sopra abbiamo la scatola di controllo, il macchinario viene fornito così come lo vedete, per cui è anche di semplice installazione, ci sono delle regolazioni da fare inizialmente, chiaramente vanno fatte una volta sola e poi la macchina è pronta. Grazie e arrivederci.